Buonasera a tutti ragazzi e forza Napoli Allora carissimi e amati iscritti attivi e non attivi Manca mezz'ora a Natale Io una cosa voglio dirvi è farvi tantissimi auguri a voi e a tutte le rispettive famiglie Sto un po' ancora acciaccato con l'influenza e perché questa influenza non mi voglia Abbandonare, sto nella mia amata terra Poi si sale verso il 2 gennaio Diciamo respiriamo un po' della nostra amata terra dopo tanto tempo Quindi che dirvi con questo Natale raga Si dicono le solite cose A parte gli auguri ok Però un pensiero lo voglio dedicare Ed è prettamente pure per loro A chi in questo momento Sta proprio attraversando un bruttissimo periodo Cioè in un letto di ospedale Chi è che è sotto bomba Tipo come in Ucraina Gente che in questo momento In questo preciso istante sta sotto Non so a quanti gradi Del freddo Povera gente senza luce Senza gas Senza acqua Immaginiamo un po' Questo Natale per loro come potrebbe essere Quindi la mia riflessione è A chi a volte si lamenta per il nulla Giriamoci un po' dietro E guardiamo un po' Che dietro C'è il buio totale E quindi dobbiamo solo dire Grazie Dio Per quello che ci dà tutti i giorni Questo dobbiamo dire Vi ricordo Di iscrivervi al canale Nelle descrizioni c'è il canale Di Giargia Quindi vi invito ad iscrivere anche là Vedete che ho caricato un video Andatelo a vedere Il canale di Giargia Per chi è interessato Per articoli sportivi Maglie, tute Scarpette Tutto quello che È a riguardo Gli articoli sportivi Basta andare Nel link In descrizione Del canale di Giargia E troverete tutto Vedete che Giargia ha caricato anche un mio video Ha ascoltato Lo mettete in like E iscrivetevi al canale Così almeno quando Giargia carica un mio video Vi vedete anche il video che ho caricato Viene questo video in particolare Era solo per augurarvi Buone feste Buon Natale Che adesso È Natale Poi dopo il capo Diciamo il primo dell'anno Ne farò un altro Di auguri Niente Per farvi tantissime auguri a voi A tutte le rispettive famiglie È un ben giro a chi È più Molto più sfortunato Ok ragazzi Augurone E certo di questi giorni